La Cleveland Vichini, se non mi sbaglio, ha fatto la finale con noi l'anno scorso, quindi massimo rispetto, noi sappiamo della nostra forza come sappiamo che era loro, massimo rispetto per la Cleveland Vichini e andiamo in campo sempre con la voglia, speriamo con quella voglia di stasera di vincere, però nessuno ci regala niente eppure stasera ce l'hanno dimostrato i ragazzi.